Aboaf, 19 anni Costanza Astrologo, 22 anni Landsberger Ernst, 4 anni Davis Martin, 16 anni Luciana Della Riccia, 27 anni Liliana Pana, 10 anni Victor Castelletti, 10 anni Lia Sadum, 13 anni Lenny Frisch, 14 anni Ardus Lani, 36 anni Maria Korner, 18 anni Matilde Ara, 16 anni Miriam Mendeson, 8 anni Giovanna Costantini, 8 anni Alberto Amati, 13 anni Arthur Riesel, 34 anni Julian Axon, 20 anni Friedrich Birman, 26 anni Betta Della Riccia, 34 anni Mosè Gornini, 25 anni Rosenberg, 8 anni, 16 Marito di Porto, 16 anni Alberto Tatti, 17 anni Teodoro Dulci, 30 anni Ramondo Calò, 4 anni Anzio Fiano, 29 anni Nido Fiano, 19 anni Bergman Valtrede Belelli Dorina, 13 anni Pintas Stroisberg, 23 anni Giannetta Levi, 19 anni Ondira, 23 anni, 19 anni Morosina Valek, 21 anni Marcella Nisi, 20 anni Settino Di Hario, 25 anni Nella Calò, 6 anni Adolf Hugo Horen, 10 anni